Ciao sono Antonio di Calzature Nucca e oggi andiamo a vedere una sneaker da uomo voile blanche questo modello modello running è fatto in pelle scamosciata il baffo in pelle e il nylon centrale da notare i particolari gialli che rendono la scarpa ancora più grintosa come interno questa scarpa adesso apriamo il laccio l'interno ti dicevo è molto bello perché soprattutto perché in pelle in pelle bianca contornata da tessuto tecnico giallo ecco qui quindi abbiamo tessuto tecnico e soprattutto la pelle per evitare fare la sudorazione abbiamo anche un plantarino estraibile sempre ricoperto in pelle con un'altezza di un centimetro anche questo per dare un po più di sostegno al tallone e andiamo a vedere ora la suola che come vedi in questo effetto un po militare con questo grip adatto a non scivolare ti faccio notare anche la suola che è sporcata per dargli un'immagine un po più aggressiva un po più grintosa per maggiori particolari vai sul nostro sito www.calzaturenucca.it il brand è voile blanche